amici e amiche bentornati ci troviamo qui su pro cycling manager 2023 finalmente torniamo con il nostro franz kaiser l'imperatore di sanremo per chi non stesse capendo cosa sto dicendo io dovete andare a vedere qualche video precedente comunque detto questo ragazzi abbiamo scollinato una situazione di calendario un po del tavolo nel senso che avevamo l'iscula basket county e la la l'iscula basket county e la l'iscula basket county e la volta si chiese ragazzo non la trovavo scusatemi dopo appunto la saremo le abbiamo scollinate con delle prestazioni abbiamo fatto praticamente gregari quasi tutto il tempo perché effettivamente il livello ragazzi è altino è noi siamo alla stagione numero 3 all'inizio della stagione numero 3 dobbiamo un attimo fasi sul fatto che il franz qua deve crescere ancora un paio d'anni per essere competitivo ovunque però noi adesso ragazzi siamo al tu alla tour no al tour du joie cyclist lo voglio fare anche perché siamo i dovremmo essere i capitani in linea di massima non abbiamo la forma al top purtroppo ma non hanno chiamato così ne può quindi dovremmo essere noi capitani in linea di massima è un arrivo abbastanza impegno in bello dritto se abbiamo conto pare pent martin coran lei che sono i zaghi e la tour la tour attenzione della da parker bagui thompson e only la viviamo tutte insieme potremmo fare un buon risultato vediamo se ci danno in mano la squadra vediamo se ci danno in mano la squadra c'è venda amics con noi ho visto adesso vediamo stiamo intanto anche dato che siamo ormai d'aprile avvicinando le altre squadre sto cercando di fare un ragionamento nel senso che rimanere alla gdr così non mi sta male c'è cosa ne fa che più forte di noi ma non mi sta assolutamente mai la squadra è una squadra abbastanza forte sto doppiando il team la israel premier tech che è un buon team ci chiedono di andare in fuga io non andrò in fuga abbiamo meno 5 io andò in fuga per il semplice motivo che era no dai non andiamo in fuga però ragazzi meno 5 e vabbè i potevamo avere da da più 5 a meno 5 giustamente il tiro di dadi è quello giusto vedete che vendano un bel più 4 lo lascerei libero anzi no vendano e me lo porterai dietro sinceramente che ci gestisca perché meno 5 città li ha tantissimo la testa la quale a salita non era nemmeno così lo dio è pesante ma non era nemmeno così lunga fosse stata di 5 6 chilometri è al limite è al limite per entrare il montpupè il limite per entrare dentro nel collinare tra collinare media montagna noi stiamo allenando se non ricordo male pavé che mi sta molto bene così come messo il kaiser recupero 64 la vedo complicata a fare un grande giro e abbiamo ancora diversi livelli davanti prima di poterci anche soltanto provare ad accedere abbiamo un blocco scusatemi di livello ce ne abbiamo ancora qualcuno davanti però diciamo che diciamo che una settimana la regge già la seconda inizia al calo forse la terza manco ci arriva però vediamo il kaiser sarà un cacciatore di tappe né più né meno ma questo lo sapevamo già sarà un cacciatore lui deve andare alla caccia di cose come questa banalmente magari non con un meno 5 possibilmente comunque vediamo se abbiamo il nostro vendramix davanti che ci sta tirando ci sta tirando via l'aria pete che siamo già un po faticando rispetto proprio vendrame però questo almeno 5 che entra in effetto e fa male vediamo cosa riusciamo a fare ragazzi vediamo la fuga preso tre minuti sono in 11 in fuga attenzione non ci sono enormi nomi non ci sono enormi nomi però e sono in tanti di solito le fughe di queste cose un po secondarie numerose tendono ad arrivare forse non dico meglio stare con la fuga perché avevamo dovuto spendere molto di più così almeno stiamo dietro con il ritmo del gruppo non siamo di non ci se non abbiamo dei favoriti in squadra quindi anche come team non mi sento in dovere di dover tirare c'è qualcun altro che lo dovrà fare noi seguiremo il gruppo vediamo adesso in questa discesa magari di prendere la posizione aerodinamica per risparmiare un po di energie guadagniamo più di velocità comunque recuperiamo molto bene quindi vabbè ok io mi metterei già in sforzo 90 in maniera tale che se partono davanti un po più aggressivi noi ci siamo 36 km all'arrivo 36 km all'arrivo si esattamente caduta di valentempa repent e anche di parker mi sa che era uno dei favoriti quindi ok c'è un po spezzato il gruppo pare pente rimasto indietro prova nel tempo dom anche rimasto indietro ok non di poco e hanno quasi due minuti hanno quasi due minuti qua sono partiti vi lega nei conrad forse un po prestino ma nemmeno troppo ma c'è ancora tutta l'ultima salita che importante noi stiamo andando su bene potrei chiedere a gesbert e avvendrame di star davanti e tirare sì io direi di fare questa cosa qua per così almeno il nostro case cerca di affaticarsi meno possibile stiamo recuperando i fuggiaschi che adesso hanno solo 41 minuto e 40 spero che mi lasciano i gregari attaccati perché sennò diventa un po un casotto poi fare tutto sto lavoro rischiamo di bloccare un po che sber che poteva fare forse un buon risultato vediamo vediamo cosa riusciamo a fare siamo all'ultima salita 10 km dall'arrivo e direi di iniziare a farci vedere davanti se possibile non la 90 di sforzo ma 85 che già bello bello peso perché abbiamo ancora un minuto e non è poco vediamo che bar will beven bevin come diavolo si può dire stanno sono partiti cattivi allora proviamo a manda su 90 poteva andare su 90 ok occhio al kaiser più che gli altri due occhio al kaiser più che gli altri due perché meno 5 si fa sentire tanto però meno 5 comunque ci permette di stare di con i migliori quindi una buona prestazione da parte per il nostro kaiser faccio prendere il gelino si avvendranno e chiaghe sber gelino lo prenderà tra un attimo il nostro anche il nostro franz vedo la f qui mi viene da dire felice sappiatelo tantissimo a se non lo sapete ragazzi su twitch c'è un obiettivo arriviamo a 20 abbonati ne mancano circa una decina seguiamo a 20 abbonati su twitch avremo il tentativo numero 3 con felice scalapassi al tour de france riscaricherò il gioco poste di maggio 2022 riprenderò salvataggio e faremo degli episodi speciali unicamente su su felice magari live magari in doppia live twitch youtube vediamo intanto cerchiamo di andare non ci prendiamo perché abbiamo praticamente ripreso la fuga ecco ma ecco pare penta quello colore il fratello forte prendiamo anche noi gelino perché stiamo andando un po in difficoltà questi sono andati abbiamo un obiettivo era quello di andare in fuga quindi in realtà fare fare risultato è già una buona cosa ok ecco stiamo faticando tantissimo però stiamo faticando tantissimo vedete che casa tra poco si staccherà proprio un chilometro dall'arrivo lancio ventrame lancio gas bear e il nostro kaiser non ce la fa però gas bear va a fare un buon risultato mi sa martin vince davanti a terra da che sbagliato terzo ebbe ebbe vendrame arriva davanti a noi settimo noi chiudiamo in ottava posizione quindi buono una top ten davanti alla tour quindi già per me una vittoria e tutti e via via tutti gli altri avevamo un meno cinque un meno cinque queste corse con il nostro kaiser con un più non più due un più tre dovrebbe dominarle secondo me abbiamo fatto tutto giusto nel momento in cui eravamo arrivati così vicini e potremmo partire ma soltanto dopo che appunto i nostri avevano fatto il lavoro e il nostro france stiamo un po meglio ton con arriva in decima posizione abbiamo uno due tre quattro in top ten non male direi infatti il manager è particolarmente soddisfatto ci dà 18 punti non state se non siamo andati in fuga arriviamo quasi a 300 punti ora il livello che andremo a fare dobbiamo andare a vedere in allenamento se lo facciamo questa settimana anche se non credo fatemi vedere un attimo no è più probabile che lo faremo la prossima settimana quindi noi avremo tutto l'allenamento fatto avevamo 86 per cento 88 per cento di come si chiama di pavè e 72 di collina sarebbe il top farlo alla fine della prossima settimana dopo freccia e 10 magari però secondo me lo faremo prima quindi avremo comunque un buon livello di di entrambe le cose e se riusciamo a farlo in questa settimana possiamo anche prendere in considerazione l'idea di fare un livello di montagna vediamo cosa cosa riusciamo a buttare dentro quindi bene io vi do appuntamento ragazzi al prossimo episodio questo è stato un episodio molto corto ma vorrei darvene un po in fila perché poi ragazze adesso inizia il trittico delle meraviglie la freccia vallone la 10 baston 10 quindi andiamo a fare la nostra seconda monumento e poi un'altra classica importantissima che l'ex bon frankfurt non credo che qui riusciamo a fare qualcosa già la freccia è più facile e alla 10 ci si prova ma credo che se non arriviamo al top della forma un più 3 più 4 sarà complicato dopo di che c'è la trovo a leon che è un buon più o meno buon un buon campo di battaglia diciamo per la nostra per il nostro valore di pavè e poi ragazzi c'è sono due corse relativamente poco importanti che sono il tour de finister e la bush de la sono due corse movimentate io punterei tanto a vincerle per fare migliorare siamo il il valore di vittoria chiaramente se non riusciamo a fare la magia qua alla liege ma la vedo complicata dopo di che c'è mercantù che non vedremo noi di queste cose vedremo la faccia vallone nel prossimo episodio la 10 quello dopo ancora e l'erbo nel prossimo ancora faremo il trittico di episodi con le classiche del nord dopodiché la trovo a leon vedremo assolutamente queste due tour de finister e la bush de laudra le vedremo in un unico episodio le raccube raggruppiamo così abbiamo 1 2 3 4 5 episodi già pronti da poter registrare il mercantù non ha senso che io lo vada a fare ma lo facciamo ma non faremo il video la la roda si ten quella tappa di 34 km penso sia una crono vabbè vediamo dopo di che avremo sicuramente l'episodio per il campionato tedesco che se arriviamo bene ragazzi spacchiamo tutto dopo di che dobbiamo andare a vedere cosa abbiamo di corse ancora vediamo tour de pologne la bremer si classic che va bene ok la betran classic west france sicuramente si andremo a fare il premio di montreal di montreal lo faremo volentierissimo la pace de calais va beh parisciori ok poi abbiamo il lombardia che non credo che ci appartenga ma lo proveremo a fare assolutamente e la il gritturo guang si anche qua non lo so come calendario come punti siamo veramente risicatissimi non possiamo aggiungere praticamente più niente cito cosa tutta almeno 47 punti 15 punti vedete il tour de france serve livello 17 mentre per la volta e il giro serve credo un altro livello fosse il livello no il 16 quindi volendo potremmo già fare il giro l'anno prossimo vediamo un po così non possiamo aggiungere più niente ragazzi abbiamo giusto oltre vende ma direi che no alla pari bush nemmeno e la pari tour elite neanche c'è un po di pari veramente risicato non lo so anche se è una classica importante quindi potremmo metterci in testa comunque vediamo vediamo il calendario di quest'anno va via abbastanza velocemente ma quello del kaiser andrà via quasi sempre abbastanza velocemente perché non facendo le cose tappe ci teniamo già dalle 20 alle 40 corse in meno quindi è molto più veloce per me da registrare detto questo vi saluto definitivamente vi do appuntamento al prossimo episodio con il kaiser e andiamo a vedere andiamo a assaggiare il terreno belga avremo due giorni in belgio per poi andare a nella nostra c nella nostra germania alla air bomb frankfurt vediamo noi siamo di berlino però va bene così tanto lontano detto questo grazie vi saluto al prossimo episodio ciao a tutti